Bitcoin, criptovalute e banche. Un rapporto molto complicato, oserei dire. Nascono ovviamente come due antipodi, insomma. Bitcoin ha visto come ciò che ci può liberare dalle banche. Le criptovalute sono un'alternativa decentralizzata al sistema finanziario che tutti conosciamo. Tuttavia le banche, nell'ultimo periodo in particolare, hanno mostrato un interesse crescente nei confronti di Bitcoin e delle criptovalute. Inizialmente come un mero asset finanziario speculativo, insomma, molte banche, molti strumenti di investimento, molti enti appunto di investimento, hanno dato la possibilità di investire, magari tramite prodotti derivati, in Bitcoin e in criptovalute. Ora siamo addirittura a un passo successivo, in cui alcune banche permettono o permetteranno l'acquisto di Bitcoin. In Italia, in questi termini, siamo molto all'avanguardia, perché grazie alla partnership che è stata stretta tra Conio e Hype, c'è la possibilità già di acquistare i Bitcoin direttamente da una banca, che non è una cosa da poco. Come abbiamo detto anche nel video di qualche giorno fa, dove abbiamo trattato il tema dell'America, che sta seguendo un po' questa direzione, che vuole arrivare a permettere alle banche di offrire servizi, di compravendite, di custodia, di asset digitali e di criptovalute, direi che è un tema più attuale che mai. Quindi, le domande che mi faccio io sono, innanzitutto, che rapporto intercorrà tra Bitcoin, le criptovalute e le banche? Le banche cercheranno di prenderne possesso, in un certo qual modo, di renderlo un loro strumento di guadagno, di utile, tramite la possibilità appunto di erogare servizi finanziari, compravendite e investimento in Bitcoin, e soprattutto, adesso che sta emergendo un nuovo tema, estremamente importante ed estremamente rilevante a livello mondiale, che è quello delle stable coins. Molti stati vogliono emettere la loro stable coin, molte aziende stanno cercando di emettere la loro criptovaluta a valore stabile. E questo, ovviamente, rischia di portare via clienti alle banche, proprio perché che ragione ha una persona di tenere soldi in banca quando ha un'alternativa nettamente migliore. Insomma, questi sono tutti temi di discussione che ho deciso di sottoporre al nostro caro Christian, che adesso tra poco prenderà il mio posto, sempre per motivi di anticontagio, ci teniamo a distanza, se no mi piacerebbe poter essere in video tutti e due, ma in questo periodo viene un po' così. E lui, che è passato dal mondo finanziario tradizionale al mondo cripto, direi che è la persona migliore a cui porre queste domande, soprattutto chiedendogli quale, secondo lui, potrebbe essere il futuro di questo difficile rapporto. Quindi, la parola a Christian. Cosa ci dici? Intanto compari. Eccomi. Ciao a tutti. Allora, beh, è un tema molto molto interessante e anche di attualità, perché le banche stanno cominciando a muoversi e vedremo un po' che cosa faranno. Secondo me si muoveranno sempre di più perché si sono resi conto che c'è un valore nel Bitcoin. Quindi c'è un valore nel Bitcoin che se vuoi fare cliente contento, alla fine glieli devi dare, perché il cliente che vuole cooperare Bitcoin, comunque se li compra, non è che sta a aspettare la banca, no? Allora, la banca deve decidere in questo momento. Ah, è una decisione difficile da prendere, no? Perché può decidere di stare completamente fuori dal settore, sperando che finisca male, però se sbaglia i calcoli e il settore, invece di finire male, cresce e la banca si trova spiazzata, no? Con i clienti scontenti che si sono andati a comprare Bitcoin fuori, che cominciano a imparare a usare le criptovalute, ma anche le stablecoin, l'euro digitale e così via, per quanto loro, no? E quindi la banca oggi, secondo me, è costretta a muoversi, no? Cioè, in questo momento non è tanto la banca che si appropria dei Bitcoin, ma rischia di essere il contrario. Rischia di essere il Bitcoin che si appropria delle banche, anzi che le distrugge. Le taglia fuori. Le taglia fuori, sì, ma poi non solo il Bitcoin, no? Cioè, ma la tecnologia, no? L'insieme delle cose che si possono fare con le valute digitali, no? Quindi, Bitcoin, ma soprattutto l'euro digitale e così via, no? Perché poi l'altro tema un po' interessante che sta venendo fuori, che tu hai... Che oggi Bitcoin è il primo che è partito, no? Però oggi le persone che si comprono un Bitcoin come investimento, no? Perché lo comprano, perché sperano che salga di valore, no? Certo. Alla fine quello che si vede è che non c'è quasi nessuno che usa Bitcoin per fare pagamenti, no? Quindi, cosa succede? Che Bitcoin continuerà a crescere, ma probabilmente continuerà ad avere quel ruolo, no? Per avere un cambiamento forte nel sistema bancario, quello che serve è che la gente cominci anche a fare i pagamenti con i token digitali, con le valute digitali e così via, no? E qui si insediano le stable coins. Certo, certo. E lì è esatto, esattamente quello che sta succedendo, no? E il fenomeno, secondo me, sarà molto forte e lì ci sono alcuni indizi perché la cosa... che fanno pensare che la cosa partirà forte, no? Allora, la prima è un ragionamento di tipo macro, no? Ad alto livello politico, no? Perché noi abbiamo una situazione particolare in cui abbiamo da un lato la Cina, che ha annunciato il Digital One, quindi la moneta nazionale cinese in forma digitale. dall'altra parte abbiamo una grandissima azienda privata, che è Facebook, che ha deciso di far partire una valuta Libra, che non sarà gestita direttamente da Facebook, ma comunque che è espressione di aziende private, no? Quindi non di uno Stato, ma di un gruppo di aziende private che gestiranno la Libra Foundation, che è quella che poi emette Libra. Libra, quando parte, sarà una Libra Euro, Libra Dollaro e Libra, quindi sarà una valuta stabile, assolutamente paragonabile all'Euro e al Dollaro, soltanto che girerà su una blockchain e che sarà spostabile da distanza, no? Però, no, perché vi dicevo questo? Perché noi da un lato abbiamo un grande Stato, la Cina, e un gigante tecnologico che stanno spingendo due monete diverse, no? Questo è un fenomeno che le banche centrali non possono ignorare, perché anche qui, perché se tentassero di ignorarlo e il fenomeno dovesse prendere piede... E rimarrebbero escluse, poi, in qualche modo. Rimarrebbero escluse sul loro core business, no? Perché la cosa più importante che fa una banca centrale è gestire la moneta. Esatto. Quindi non puoi farti sostituire nella gestione della moneta da qualcun altro, no? Dalla Cina o da Facebook, dall'altra parte, no? E quindi ti devi muovere, no? Ti devi muovere e devi fare qualcosa anche tu. Questo vuol dire che il Digital Euro arriverà, arriverà anche prima di quello che ci aspettiamo. E poi, la domanda vera è, una volta che c'è il Digital Euro, quanto ci vorrà per che prenda piede? E qui, dicevo, comincio ad avere l'impressione netta che il processo possa essere molto più veloce di quello che ci aspettiamo. Qui abbiamo anche qui un po' di cose interessanti da guardare. Uno è di nuovo la Cina. Ah, la Cina è un paese che fino a dieci anni fa usava solo contanti e basta. Quindi i cinesi pagavano i contanti e non avevano le carte di credito, praticamente. Dopodiché, in Cina sono arrivate le app di pagamento. Quindi la possibilità di pagare direttamente con l'app, usando quei servizi tipo Alipay e WeChat. WeChat, sì. Questi servizi hanno sbaragliato il mercato. Nel senso che la gente, tutti hanno in mano un cellulare, non tutti hanno necessariamente in mano una carta di credito. Nel momento in cui posso pagare col cellulare, la cosa mi viene talmente naturale che tendo a farlo molto velocemente. Adesso poi in ambiente Covid, dove si tenta di pagare un pochettino di più a distanza, ovviamente il pagamento con l'NFC cellulare è vicino semplicemente al cellulare. E' incentivato anche. Sì, siamo stati tutti spinti in quella direzione, no? Molto fortemente. Quindi i pagamenti con i cellulari funzionano bene, no? E possono prendere piede. Per darvi un'idea, allora, in Cina dieci anni fa dicevo 100% dei pagamenti contanti. Oggi, a dieci anni di distanza, il 90% dei pagamenti è fatto con le app. Quello è un paese da un miliardo e tre di persone che ha, tra l'altro, non avanzatissimo, no? Perché poi la Cina, è vero che c'è Shanghai, c'è Beijing, che sono città molto moderne, però c'è anche tutta la parte rurale della Cina molto arretrata, no? Ma anche lì sono arrivati i pagamenti con le app. E la cosa interessante è che, in realtà, il pagamento con l'euro digitale nasce come pagamento fatto in app, no? Quindi sostitutivo rispetto alle carte di credito, molto più comodo e più semplice, più intuitivo, no? Quindi, di per sé, quel modo di pagare lì ha le carte in regola per conquistare il mercato e crescere molto rapidamente. Mi viene in mente anche il settore online, comunque, l'e-commerce, tutti gli acquisti online, essendo un settore in forte espansione, insomma, magari quella può essere anche una moneta nativa, quasi, per l'online, a differenza della moneta, della carta di credito, che è ancora comunque un qualcosa di fisico al contante, vabbè, addirittura è ormai obsoleto, mi viene quasi da dire. Allora, guarda, io sono al 100% d'accordo con te sulla questione delle carte di credito, no? Poi la carta di credito ha un difetto strutturale, che tu devi prendere il tuo numero della carta e metterlo in rete. Facendo quello, tu stai dando dei tuoi dati personali alla rete e quindi stai dando la possibilità ad hacker, truffatori e così via, di intercettare quel dato e utilizzarlo al posto tuo. Questo è un punto debole del sistema delle carte e, in effetti, l'utilizzo di carte clonate, di numeri rubati e così via, è frequente. Noi lo vediamo, diciamo, dal nostro osservatorio, capitano casi di carte... Immaginano parecchi, spesso. Quindi la carta è debole da quel punto di vista e poi ha il secondo difetto che costa. Quindi il negoziante che accetta le carte paga tra il 2 e il 3% di commissione al sistema delle carte. Quindi abbiamo una situazione dove il sistema delle carte non è perfetto né dal punto di vista di chi paga, perché deve dare i suoi dati in rete, quindi ha un problema di privacy, né da parte di chi incassa perché paga commissioni significative. Allora, lì, se lo confronti al digital euro, è chiaro che c'è un vantaggio enorme, no? Perché col digital euro tu cosa devi fare? Devi solo sapere qual è l'indirizzo a cui mandare i soldi, ma non devi dare nessuno dei tuoi dati alla rete, no? Quindi è molto sicuro da parte di chi spedisce i soldi e, contemporaneamente, dà un forte vantaggio a chi incassa, perché tipicamente non hai l'intermediazione di circuito di carte, intento della carta, equirer e così via, quindi sostanzialmente quando incassi euro digitale avrai un costo tendenzialmente di zero. Per cui tu hai un vantaggio per chi paga, un vantaggio per chi incassa, e quindi ci sono tutte le premesse perché il sistema cresca molto, molto, molto velocemente. Poi, per il contante, beh, allora, che il contante sia un soletto, purtroppo è vero, però, alla fine non è da disprezzare il contante, no? Cosa succede? Se tu hai contanti, i contanti ti rimangono, l'unico modo che hai di perderli è che qualcuno proprio te li sottraiga. E li porta via fisicamente. Se invece i soldi li tieni in banca, perché è il più moderno, perché devi usare le carte e così via, e poi la banca ti fallisce, o c'è un problema generale sul paese per cui vengono bloccati i conti delle banche, beh, e tu quei soldi li non li puoi più usare, no? Sì. Ah, sembra una cosa strana, poco probabile e così via, lo è molto meno di quello che sembra, no? Allora, 2015 è capitato in Grecia, no? Quindi in Grecia non ho più potuto usare i soldi che avevano in banca da un giorno all'altro, perché a causa della crisi finanziaria che ha coinvolto la Grecia, le banche sono state messe in freeze, no? C'è stata la corsa agli sportelli, tutti volevano i contanti, non a torto, perché il contante c'è vantaggio, che una volta che ce l'hai in mano è tua e basta, no? E invece, diciamo, le banche si sono dimostrate a rischio, no? Le banche sono state chiuse per un certo periodo e in questo periodo chi aveva soldi in banca era come se non ce li avesse, diciamo, no? Poi hanno salvato la Grecia e le banche hanno riaperto. Però, cioè, pensarci davvero, sembra uno scenario talmente distante da noi che uno cerca ovviamente di dire, no, vabbè, non può capitare. Però, cioè, pensando anche solo per un secondo che capiti è veramente apocalittico come scenario. Ecco, e lì le criptovalute e il digital euro ti proteggono da quello scenario lì, no? Perché, allora, dal punto di vista di quello che sono, no, la criptovaluta e il digital euro è molto più simile al contante di un deposito bancario, no? Quindi quando tu hai la criptovaluta o hai il digital euro sul tuo wallet è tuo, non hai un intermediario di mezzo, no? E quindi, sostanzialmente, è molto più simile il digital euro al contante di quanto non sia al deposito bancario o alla carta di credito, no? Quindi in questo senso dicevo che è vero che il contante è obsoleto, però, diciamo, dal mio punto di vista non è da disprezzare, no? Perché... Certo, se arrivasse appunto l'euro digitale piuttosto che una criptovaluta unirebbe tutti i vantaggi. Il vantaggio dell'essere online, il vantaggio dell'essere di tua proprietà e quindi direi che farebbe veramente, creerebbe un nuovo capitolo. Sicuramente. Tra l'altro siamo in un momento molto interessante perché è un momento di dibattito, di studio sull'argomento. Tu hai oggi, da un lato, i due grandi blocchi contrapposti, no? La Cina e gli Stati Uniti dall'altra, che entrambi propongono dei sistemi di pagamento con un forte livello di controllo statale. Ah, la Cina, perché tutto quello che fa vuole per definizione controllare tutto, diciamo, e quindi è nella natura della Cina vuole controllare tutto, no? E così il digital one, quando nasce, nasce come valuta perfettamente controllata dallo Stato cinese. D'altra parte, però, anche lo stable dollar nasce con un forte livello di controllo per altri motivi questi. Il motivo è che gli Stati Uniti storicamente, diciamo, controllano il sistema finanziario per la prevalenza che ha il dollaro come sistema di pagamento, no? Quindi quando gli Stati Uniti vogliono imporre sanzioni su un certo paese, cosa fanno? Le impongono e poi sanzionano chi non vuole applicare quelle sanzioni, semplicemente impedendogli di usare i dollari o multandolo. Questo lo possono fare perché controllano il dollaro e vogliono continuare a farlo, quindi vogliono continuare ad avere il dollaro come valuta mondiale e come strumento per imporre sanzioni e politica economica americana sul resto del mondo. Per fare questo hanno bisogno di uno stable dollar con tutta una serie di livelli di controllo, no? Quindi la blacklist, la possibilità di imporre sanzioni decise dallo Stato americano, che poi devono essere, sono applicate poi a livello mondiale, anche extraterritoriale dal punto di vista degli Stati Uniti, però sostanzialmente vogliono mantenere la possibilità che hanno di imporre sanzioni a tutto il mondo. La cosa interessante è che questa invece è una cosa che l'Europa potrebbe evitare. L'Europa è un po' il terzo incomodo in questo gioco, no? Perché oggi l'euro è una moneta importante, ma non è né certa la moneta per i pagamenti mondiali, no? È una moneta che si usa qui e poco più, diciamo, sostanzialmente. Quindi oggi la Banca Centrale Europea deve decidere che tipo di euro digitale fare. E può decidere tante cose diverse. Quindi può decidere di seguire la strada di Stati Uniti e Cina, e quindi creare una moneta con indirizzi in blacklist, con la possibilità di imporre sanzioni e così via. Ma a questo punto rimarrebbe la terza moneta, no? Perché non ci sarebbe un particolare motivo per nessuno di utilizzare l'euro digitale che si comporta allo stesso modo del dollaro digitale. A quel punto lì usi il dollaro, che è anche una moneta più forte, più accettata e quant'altro. Esatto, no? La questione è vera che però non è questa l'unica scelta possibile per l'Europa. E qui è interessante che il dibattito sia aperto. C'è un interessante contributo di Yves Mersh che potete trovare sul sito della BCE. Qui Yves Mersh, che è un componente del supervisory board della Banca Centrale Europea, quindi uno dei massimi livelli, no? Cioè, una voce molto autorevole, ha cominciato a discutere la possibilità per l'Europa di fare un euro completamente anonimo e con privacy assoluta. Quindi senza la possibilità per la Banca Centrale o per i singoli stati nazionali di controllare i movimenti fatti e di intervenire sulla proprietà della moneta. In questo senso l'euro digitale di questo tipo sarebbe una sorta di contante digitale che darebbe esattamente lo stesso livello di anonimità nelle transazioni e la stessa garanzia di difesa della proprietà privata. Perché una volta che io ho l'euro digitale non ci sarebbe nessuno che me lo può togliere, no? Allora, l'idea sembra un po' un'idea eretica, soprattutto... Sì, ma mi stupisce questa cosa. Proprio perché, insomma, una banca centrale il cui scopo dovrebbe essere controllare quanto più possibile tutto ciò che è nella sfera della moneta. Allora, non è detto, non è detto, non è detto. Perché alla fine oggi il contante viene emesso dalla banca centrale. Quindi il contante per definizione non è controllato, no? L'altra cosa, è vero che lo Stato deve combattere la criminalità, ma non è vero che per combattere la criminalità deve eliminare del tutto la privacy dei suoi cittadini. Oggi di fatto il contante esiste e tutti i cittadini posseggono contante. Quindi quando bisogna il contante non c'è Stato che tenga, quello che si fa rimane assolutamente tracciato e privato, no? Allora, quindi diciamo, non è affatto detto che lo Stato debba per forza controllare tutto. È un'idea, secondo me, anche un po' esorbitante per certi versi. Cioè lo Stato, secondo me, supera di molto i suoi obiettivi se fa una cosa del genere. Ma l'altra cosa importante da considerare è il beneficio che posso avere se faccio una cosa del genere. Allora, se io creo una moneta totalmente anonima, è facile che questa venga adottata in maniera molto entusiastica, non solo in Europa, ma forse anche fuori dall'Europa. Quindi io potrei ottenere l'effetto di creare la nuova moneta mondiale in sostituzione del dollaro di oggi. Se avviene questo, cosa succede? Che la circolazione dell'euro aumenta moltissimo, la quantità di euro che dovrà essere in circolazione aumenterà molto e quindi le risorse a disposizione della Banca Centrale per aiutare gli Stati a finanziare la propria spesa pubblica può aumentare in maniera molto, molto forte, no? C'è il corrispondente del signor Angelo. Oggi, nel momento in cui stampo una banconota, ho un costo ridicolo della carta e poi ho emesso un oggetto che vale 100 euro, 50 euro e così via, per pochi centesimi. Con l'euro digitale è esattamente la stessa cosa, no? Se io metto un token digitale e mettere quel token digitale... Non mi costa nulla. Zero, costa zero, però quel token vale comunque un euro, 100 euro, un milione di euro, quello che vale, no? Quindi sostanzialmente io ho un signor Angelo molto significativo che dipende da quanto questa moneta circola. Quindi il fatto che si crei un euro che venga accettato in maniera molto entusiastica, diciamo, dalla popolazione aiuta in maniera molto forte e molto significativa a finanziare le spese dello Stato. Quindi ha un ruolo che sicuramente può contribuire alla crescita economica dell'Europa e cambiarle il peso economico nel mondo, no? E gli altri Stati come potrebbero reagire, però, ad una cosa del genere? Mi viene in mente che la Federal Reserve non sarebbe tanto contenta, ad esempio, di vedere il dollaro un po' minacciato anche, forse, da questa... Non farebbe di tutto, insomma, per renderlo illegale, bandirlo, ostacolarlo? Sì, forse, ma l'euro digitale o lo one by one digitale non sono così facili da fermare. Perché se io, Europa, sostengo la scelta, a quel punto l'euro digitale può essere trasferito da un wallet all'altro in maniera completamente libera e nessuno degli utilizzatori del sistema sarebbe mai costretto ad aprire un conto in una banca, no? Il che vuol dire che la possibilità di Stati Uniti di sanzionare quel tipo di transazioni va a zero. Oggi la capacità degli Stati Uniti di sanzionare transazioni economiche dipende dal fatto che tutte le transazioni passano per le banche, nessuna banca al mondo può rinunciare al dollaro, e quindi se gli Stati Uniti minacciano, ad esempio, l'unicredito italiano di... Ad esempio, cos'è successo in Italia, no? A un certo punto c'è stato un periodo in cui gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo contro la proliferazione nucleare con l'Iran, no? Mentre l'Europa era rimasta dentro nell'accordo. Gli Stati Uniti hanno ricominciato a imporre le sanzioni quando invece l'Europa non aveva nessuna intenzione di imporre le sanzioni. Allora, in quel periodo lì, le transazioni economiche fatte dalle banche europee con l'Iran sono state comunque impedite dagli Stati Uniti, perché sostanzialmente gli Stati Uniti hanno detto che, care banche, se fate transazioni con l'Iran, noi vi sanzioniamo. Se continuate a farle e non ci pagate la sanzione, vi togliamo la possibilità di utilizzare i dollari. E come fanno a farlo? È possibile perché qualsiasi transazione in dollari, in un momento della sua vita, fa un passaggio su qualche banca americana, quantomeno per il clearing. Quindi, diciamo, sostanzialmente, visto che non c'è nessuna banca al mondo oggi che può rinunciare a trattare dollari, se ha una dimensione un minimo accettabile, l'effetto è che qualsiasi banca accetta le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Se però la transazione economica si può fare senza usare un sistema bancario, quindi se io posso fare un pagamento diretto dall'unicredito all'Iran, o no, scusa, dall'unicredito è l'esempio sbagliato perché quella è una banca, no, oppure dall'azienda, dal dei tali italiana all'azienda iraniana, e questa è una cosa permessa dallo Stato europeo, quella transazione che non va sul sistema bancario non è possibile che venga stoppata né dagli Stati Uniti né dalla Cina dall'altra parte. Tra l'altro, uno dei motivi per cui la Cina sta creando il yuan, lo yuan digitale, è proprio quello di fare guerra al dollaro, evidentemente. Sì, si mette un po' nell'onda della rivalità Cina-Stati Uniti, insomma. Certo, e lì l'Europa che sta in mezzo può trovare la sua via, se vuole. E Bitcoin in tutto questo, invece, come lo inquadri? Perché comunque, finora abbiamo parlato di valute sempre statali, che magari, vuoi o non vuoi, comunque sottostanno a certi limiti come quelli che lo Stato comunque ha il diritto di crearne altra, perché lo governa. E Bitcoin come si potrebbe inserire quindi in questo quadro? Allora, la più grossa differenza strutturale che c'è tra Bitcoin e un digital euro è che l'emissione dei Bitcoin è limitata ed è determinata dall'algoritmo, quindi al massimo ci saranno 21 milioni di Bitcoin. Gli euro, comunque, invece, in circolazione, possono aumentare a piacere, perché l'offerta è regolata solo ed esclusivamente dalla Banca Centrale Europea. Quindi l'effetto cos'è? è che il valore dell'euro ovviamente sarà sempre un euro, se ne vengono emessi troppi potrà esserci inflazione e il valore dell'euro potrà calare, mentre il valore del Bitcoin, che ha un'offerta fissa, dipenderà solo ed esclusivamente dall'andamento della domanda e dell'offerta. E tendenzialmente in un mondo in cui c'è il cosiddetto quantitative easing, che vuol dire stampare furiosamente moneta nuova, no? Brrrr, sai il meme che gira! Esatto. Allora, in un mondo di questo tipo è chiaro che il valore relativo tra Bitcoin e moneta inflazionata andrà tendenzialmente a favore del Bitcoin, no? Quindi Bitcoin, a mio parere, è facile che rimanga un ottimo strumento per avere uno store oveglio, no? Quindi è una garanzia di valore nel tempo. Quindi Bitcoin è un asset ma non una currency, diciamo, qualcosa da detenere ma non da spendere per fare transazioni, magari per trasferire valore ma non per pagare un bene. No, per pagare un bene è difficile perché comunque se quando avrò il digital euro e il Bitcoin sono esattamente nella stessa situazione che sono oggi, per cui tendo a usare l'euro per fare i pagamenti e il Bitcoin li compro e li tendo. Ah sì, certo. Molto interessante questa cosa, in particolare il discorso del digital euro come moneta privata, cioè privata nel senso dotata di privacy, che è un concetto che non conoscevo e devo dire mi affascina veramente tanto. Ma comunque, guarda, lì, la cosa interessante è che entriamo in un periodo in cui anche tra le monete ci sarà concorrenza. Ah sì. Questa è una cosa strana perché siamo abituati a dire c'è l'euro, possiamo usare quello e basta, no? Ma da ora in poi quando ci sarà l'euro digitale, lo yuan digitale, il dollaro digitale, in realtà io potrò scegliere molto più facilmente. E quando si può scegliere, alla fine le persone scelgono secondo le proprie preferenze e quindi chi disegna la moneta deve farlo tenendo conto delle preferenze delle persone. Qui tra l'altro abbiamo un caso molto interessante, secondo me, che fa un po' capire cosa potrà succedere quando arriveranno queste monete statali digitali, no? Ed è il caso del dollaro. Allora, il dollaro digitale in realtà è partito già da 3-4 anni. Cioè, il primo dollaro digitale è stato il tether. Famigerato tether, no? Tanto odiato da tutti perché è poco trasparente, poco sicuro. Sì, fa schifo il tether, no? Perché tu non sai che cosa diavolo stai coperando, no? Sai che in teoria vale un dollaro, ma magari non c'è niente dietro, quindi puoi anche scoprire che non vale niente, no? Comunque, è anonimo. E quindi il tether è una cosa molto chiara, no? È poco sicuro perché non sai cosa c'è dietro, però è anonimo. Oggi ce ne sono... Adesso è un po' che non guardo questi dati, ma mi sembra che siano almeno 4 miliardi di tether. Più di 9, sì, sì, sì. È un bel po' che non guardo le dati. Sì, ma ultimamente poi sono cresciuti in maniera esponenziale con l'esplosione anche della DeFi, che comunque le stable coins hanno avuto un sacco di domande e il tether, come sempre, guida questa domanda. Comunque, la cosa interessante è che il tether è un dollaro digitale e quindi rompe le scatole, diciamo, agli Stati Uniti, no? E che quindi hanno dato il via libera ad alcune aziende americane per fare degli stable dollar ufficiali e autorizzati ufficialmente dalle autorità degli Stati Uniti, no? Quindi Circle e Gemini hanno fatto le loro versioni del dollaro digitale. Queste versioni del dollaro digitale sono molto sicure perché queste società sono costrette ad avere delle vere riserve, no? Quindi a fronte di ogni dollaro digitale messo da Gemini o da Circle effettivamente c'è un dollaro depositato in una banca e quindi sei sicuro che c'è qualcosa dietro, no? Quel dollaro vale un dollaro. Certo. Però sono molto controllate, quindi ci sono le blacklist, possibilità di sanzioni, possibilità di fare il freeze dei fondi a piacere da parte delle autorità americane. L'effetto cos'è? Che il tether è a 9 miliardi, questi qui sono a qualche centinaio di milioni, no? Quindi vuol dire che alla fine, tra sicurezza finanziaria e anonimità, tra virgolette, la gente perferisce la seconda. Esattamente, sì, è vero. La privacy è un valore a cui molti tengono, che purtroppo si tende sempre di più a perdere. Allora, tu pensa cosa può essere un euro digitale emesso dalla banca centrale, no? Se è effettivamente anonimo e garantisce la privacy a livello proprio del protocollo, tu hai una moneta perfetta, no? Perché ha privacy assoluta, ma anche garanzia assoluta che quella moneta abbia un valore, perché è emessa dalla banca centrale europea. Quindi tu hai il meglio del tether e il meglio del controllo che possono avere quelle altre monete dall'altra parte, no? Quindi hai una moneta che potrebbe effettivamente avere un successo clamoroso a livello mondiale. Perché non farlo? Secondo me non c'è nessun motivo. L'Europa deve fare quello, deve farlo velocemente e diventerebbe di nuovo centrale nel sistema economico mondiale. Caspita sì, è vero. Potrebbe veramente prendere piede e addirittura crescere anche fuori dall'Europa. Certo. Tema molto interessante questo. Grazie mille Christian per il tuo parere. È stato direi quasi illuminante, perché molte di queste cose io neanche le conoscevo e secondo me neanche chi ci segue. Quindi sicuramente sarà apprezzato. Abbiamo parlato un po' del futuro del denaro, quindi chissà quale può essere il futuro del denaro. E voi che ci state seguendo che cosa ne pensate? Pensate che il denaro andrà in questa direzione? Che l'anonimato, la privacy, prevarranno sulla necessità comunque di avere un qualcosa di regolato? Oppure che in qualche modo questo euro digitale che mette in risalto la privacy darà fastidio a qualcuno e verrà ostacolato con tutti i mezzi possibili? Mi raccomando, dite sempre la vostra opinione. Vi faccio un caro saluto e alla prossima. Grazie mille. Grazie mille.